buongiorno da obiettivo news oggi 20 aprile e santa sala di antiochia e della giornata mondiale del circo riconosce l'arte cinciense come parte importante del patrimonio culturale e celebre su artisti e le loro performance tra i circensi in italia si distinse ai primi dell'ottocento la famiglia caroli il cui capo stipite fu pietro nato a faenza nel 1802 la dinastia caroli per due secoli ha lietato il pubblico sulle piste del circo inoltre da ricordare la famiglia chiarini che diede origine a varie generazioni di artisti che calcarono con successo le scene europee soprattutto francesi e tedesche dal cinquecento all'ottocento oggi è anche la giornata nazionale del risotto alla parmigiana e la giornata internazionale della pin apple upside down cake letteralmente torta diana la strobesciata trenati in questo giorno annoveriamo jessica lange 1949 dagli scomparsi ricordiamo invece ben hill 1992